ti sta piacendo? Molto, molto e vorrei proseguire in questo percorso. Guarda, ma guarda, incredibile, si materializza qui vicino a noi una persona che abbiamo già conosciuto qualche anno fa e abbiamo così conosciuto un formaggio che stava anche questo per scomparire e invece grazie alla famiglia di Manuel Lombardi per fortuna possiamo ancora assaggiare. Noi già lo assaggiamo e quindi ne parliamo con molto piacere, c'è il concetto romano. Ciao Manuel! Buongiorno, buona domenica a tutti. È romano di nome ma è un formaggio campano. Molto campano, dell'Alto Casertano, in questo caso provincia di Caserta, una terra ancora Felix dove abbiamo recuperato questa tradizione di conservare il formaggio in questi che erano i frigoriferi di 2000 anni fa, le anfore. Le anfore. Ne abbiamo una vicina a noi che è quella piccina diciamo. Piccina. Stiamo parlando di un pecorino. Allora intanto 60% di latte o vino delle nostre 200 pecore e c'è anche una piccola percentuale di latte vaccino. Castelli Sasso tra i 300 metri e i 900 metri hanno la fortuna di pascolare in questo paradiso queste pecorelle e con latte grudo andiamo a formare quelle che sono le caciotte di primo sale per poi asciugarle nei casali. I casali sono fatti immobili di faggio all'aria aperta e permettono l'essiccazione del formaggio. Dopodiché queste caciotte verranno lavate con l'acqua della pasta fatta in casa, l'acqua delle scialatilli che noi facciamo da noi in azienda e in agiturismo. Quindi la pasta si mangia e l'acqua... Sì, non ce la mangiamo soltanto noi. E' vero. Questa perché? Perché pensate un po', l'acqua della pasta contiene amido, bravissima Mary, ed è un antibatterico. Questo permette quindi anche di proteggere il formaggio ma di renderlo anche nella sua crosta morbida, in modo che una volta che viene messa poi nelle anfore andrà ad assorbire il... la conciatura sarebbe il condimento, peperoncino, timo serpillo, olio extravergine di oliva di varietà caiazzana e il vino Casavecchia. Quindi viene immerso e lasciato nelle anfore per quanto tempo? Minimo sei mesi, massimo due anni. E' importante che ogni 15 giorni queste anfore vengono girate, ruotate. Perché altrimenti rimangono delle parti a secco. È bello, bravissima, è bello dire anche lo scegreamo. Lo scegreamo è bello, come un cocktail. Dove la base non è tutto immerso ma soltanto la base, ecco perché deve andare a bagnare le caciotte che sono rimaste su. Non arriva più a due anni, questa è una notizia. Beh, per ovvi motivi diciamo non arriva più a due anni. Però tu ci hai portato una piccola anforina, però in realtà sono molto grandi. Sono molto più grandi, contengono anche 80 pezzi, 80 caciotte da 180 a 200 grammi. E in quel caso abbiamo un marchigiano che lo fa girare perché altrimenti sarebbe troppo pesante. Perché stava scomparendo questo formaggio? Stava scomparendo come tanti formaggi poi di quell'epoca, perché poi, attenzione, epoca sannita, poi romani e poi giorni nostri, perché la memoria soprattutto delle persone che oggi definisco giovani, che sono gli anziani. Perché tu invece stai... No, no, nel senso che è una ricetta della bisnonda, della nonna, ed è bello conservare questa memoria antica e straordinaria. Il problema è poi continuare la tradizione. C'è qualcuno che poi è scappato dalla terra, sta finalmente ritornando. Ed è bello andare a interrogare e a chiedere a questi anziani, che sono ancora vivi, che sono per me il miglior motore di ricerca che esiste al mondo, a cui possiamo chiedere veramente come venivano prodotte le cose tanti anni fa. Abbiamo fatto lo stesso procedimento, l'abbiamo conservato, lo tuteliamo e permettiamo comunque anche a tanti altri giovani di continuare questa tradizione. Quindi la prima storia, cioè il primo ricordo di questo formaggio, almeno tuo in particolare, a che cosa è legato? Allora, la bisnonna lo conservava perché, la bisnonna, in estate, non avendo le mucche, avevano bisogno di andare a prendere un formaggio che li facesse un po' riprendere. Perché? La mattina ci si svegliava alle quattro e mezza, alle cinque. Certo. Alle nove, non si faceva la colazione con cappuccine. Si mangiava seriamente, ci si sedeva, insomma, si mangiava. Perché dopo quattro ore di lavoro avevano bisogno di energia e quindi sto formaggio, conservato in questi orci, ovviamente non c'era il tappo di succo come oggi, ma c'era il piatto, si ammuffiva, per non dire altre cose. E quindi poi, con questo assaggio di questa microparticella di formaggio, si apriva gli occhi. Beh, esplode, esplode in bocca perché è un formaggio forte. Molto persistente, molto intenso e molto particolare. Per gli abbinamenti tu che cosa consigli? Ma guarda, Andrea, è un po' il tartufo bianco del sud Italia per tanti motivi e come un tartufo viene eventualmente utilizzato per alcuni primi piatti come un tartufo. Ah, proprio così. Anche se, come si dice dalle parti mie, a morte soia sarebbe quello di, nella sua completezza in assoluto, impurezza, con un bel bicchiere di vino. Beh, come dire di no, Meri? La felicità, come si suol dire la felicità. Sulla giusta compagnia, agli amici, perché è un formaggio molto da meditazione. Eh beh, sì, è vero, perché è sicuramente un formaggio molto importante, è uno dei pecorini più buoni, più importanti in questo periodo, anche dei più costosi. Ma voglio dire, il lavoro che c'è dietro è appunto quello che vi ho raccontato, quindi. Ma è particolare. Per una di conaca, 60 euro al chilo. Sì, però voglio dire, non ve ne potete mangiare 200 grammi a posto, cioè nemmone mai, proprio credeteci, perché l'abbiamo assaggiato, quindi è assolutamente così. E ma dove si può trovare? Beh, nelle migliori gastronomiche. Esatto, nelle migliori gastronomiche. Nelle migliori ristoranti d'Italia. Però c'è un sito, perché voi avete anche un agriturismo, giusto? Sì. Quindi, dove volendo uno si può fare un giro e mangiarlo lì dove lo si fa. A parte assaggiarlo un po' in tutta Italia, in queste piccole botteghe che sono delle gioiellerie, o al ristorante che si è stellato o no, o le pizzerie, perché il mondo della pizza... Fanno anche la pizza, fanno anche la pizza. Sì, siamo arrivati ormai 37 tipologie di pizze fatte col conciato. Però, se tu vieni a Cassi di Sasso, non solo conosci il conciato, ma conosci una splendida terra. E c'è anche la reggia. Com'è il sito? www.lecampestre.it Perché Le Campestre è appunto poi l'azienda. Grazie Manuel, grazie di essere stato qui sulla Radio Capita. Ciao a tutti.